Mentre Danghetti è un'isola molto così, ancora inesplorata, lei sta dicendo le stesse cose qui le strade sono di sabbia, comunque in terra abbattuta e c'è tipo un mezzo ristorante, due negozietti per comprarsi il cibo questa qui, Mahabidu, è un'isola un pochino più abitata diciamo già a vista d'occhio ci sono più negozi rispetto a tutta Danghetti è la quinta isola